molto importante, no? Essere seducente non significa essere oca, perché è ovvio che una donna potrebbe dire beh ma io seduco perché sono una fan fatal, utilizzo tutte le strategie di seduttività, no? Trucco, che ne so, salutiamo anche Micol che non sappiamo chi è, io uso questo, uso quello, uso tacchi, che ne so, reggi calze, tacchi a spillo, rim, rossetto, certo sono tutte cose che possono essere diciamo dare un vantaggio ma non è quello che ti rende seduttiva, non è quello che fa di te una vera fan fatal, questo è forse diciamo dal punto di vista come possiamo dire superficiale, dal punto di vista intanto saluto Sissi, Patrizia, Green Apple, Pink, Angelica, Antonella, Crezzirobi, Giussi, siete in tanti quindi Barbara, Dani e quindi questo è un concetto di fondo fondamentalmente, no? quindi tutte queste cose qua possono servire ma non fanno di te una donna, non fanno di te una donna di valore, salutiamo anche Joanna e nel frattempo vi ricordo ovviamente se volete mettere un like potete metterlo gratuitamente, se volete e non costa niente spolliciare verso l'alto, se volete dare un sostegno al canale ovviamente non è obbligatorio potrete fare una piccola donazione al canale e se volete partecipare ai miei seminari, io adesso sono appena finito un seminario sulla PNL che è appena iniziato, potete semplicemente fare l'abbonamento base. Allora quindi molte donne ad esempio hanno una convinzione sbagliata, cioè perché questo dipende anche un po' da quello che vi hanno, salutiamo anche da quello che vi hanno inserito nella testa, no? Fin da piccole molte donne hanno l'idea che più le donne sono stupide, più sono delle bambolone, più piacciono. Purtroppo non è vero, non è vero e molte donne crescono purtroppo con la convinzione che gli uomini siano spaventati dalle donne intelligenti, crescano con la convinzione che gli uomini siano spaventati dalle donne di cultura, crescono con la convinzione che le donne siano spaventate diciamo dalle donne di successo e in realtà in realtà non è così, in realtà non è così, in realtà non è così. È ovvio che l'oca idiota può piacere al catramista. Tra l'altro tenete presente che nei Taratarot, sapete che tra poco, spero, non so, vedremo, oramai credo che salutiamo anche Andrea Giovani, credo che ci sarà forse ancora un mese, un mese e mezzo, due mesi, non lo so, vediamo, e poi dovrebbero arrivare i Taratarot e nei Taratarot ci sono figure essenziali, ci sono anche dei dialoghi, anche dei dialoghi tra il catramista e la sciampista. C'è una carta che è la carta del catramista e della sciampista che dialogano tra loro, no? Ci saranno diverse, saranno interessanti i Taratarot, saranno interessanti i Taratarot, porteranno una nuova ventata, diciamo, nel mondo stagnante dei Tarocchi. Quindi gli uomini, quando vedono un'oca giuliva e il mondo è pieno di occhi giulive, ebbè si sentono autorizzati a prenderti per il culo, perché tanto se sei una cretina, cretina sarei e cretina morirai. Invece fingere di essere un'oca giuliva, ma non esserlo, questa può essere anche una strategia vincente, questa può anche essere una strategia vincente. Ci sarà il narcisista, ebbè sì, il narcirocco, il narcimoscio, ci sarà il narcisista, perché sennò venivano fuori 200 carte, Patrick, ci sarà il narcis, ma non differenziato tra Rocco e Moscio, almeno non credo sia differenziato, vedremo, ma perché sennò vengono veramente fuori troppe troppe carte. Champista e Catramista sono un'unica carta, ad esempio, saranno un'unica carta con dialogo tra loro. Poi ci sarà però il puttanone da corsa, ci sarà il puttanone da corsa, ci sarà la suorina, il puttanone da corsa, ci saranno delle figure emblematiche, ci sarà il draga sette teste, il famoso draga sette teste. Comunque, ad esempio, prendi, prendi ad esempio Marilyn Moro, prendi Marilyn Moro, Marilyn Moro salutiamo la vecchia, vedete che almeno Cristiana è già vecchia. Fa bene, abbiamo Cristiana vecchia, perché almeno lei si è resa conto di essere vecchia. Non è che come Andrea Giovani mette Andrea Giovani, lei mette la realtà, Andrea Giovani mette un mito, un mito, vorrebbe essere Giovani, invece Cristiana mette vecchia e quindi è vecchia. Quindi la Marilyn, al di là che avesse o non avesse la depressione, noi non sappiamo, non sappiamo, diciamo, ma non è che è molto importante quello. Marilyn era un'icona di bellezza, una diva per eccellenza e lei ha fatto finta di essere tonta, il fatto di far finta di essere tonta era la sua arma vincente, perché Marilyn era in realtà un genio, era un genio, poi aveva avuto la depressione, aveva avuto quello che vuole, ma lei si fingeva tonta, si fingeva Oca, ma non era Oca, era un genio e la sua egregia abilità, diciamo, di interpretare il ruolo dell'Oca, della svampita, beh, le ha fatto guadagnare milioni di dollari, che poi avesse la depressione, si è suicidata, questo è un altro film, però comunque lei ha conquistato fame e popolarità ed era semplicemente, ed era semplicemente Norma Jane, una cameriera, ed era normalmente Norma Jane, una barista, e invece, come dire, e invece aveva un'intelligenza, perché l'intelligenza non è soltanto collegata, diciamo, alla cultura, anche se ci sono delle correlazioni, però il presupposto di fondo è che una donna intelligente può anche fare l'Oca, ma una Oca non può fare l'intelligente, se sei Oca, sei Oca, e non puoi fare l'intelligente, invece al contrario sì, al contrario sì, quindi dobbiamo tenere presente che sicuramente, diciamo, come possiamo dire, non è collegata alla cultura, è questo, perché Norma Jane, Norma Jane, Marilyn, non so che cultura avesse, non credo che abbia studiato alla Bocconi, comunque avere un'intelligenza. Anche perché, diciamo, sono tante, no, le caratteristiche, cioè una delle caratteristiche fondamentali è la capacità di saper conversare, la capacità di stimolare, sono giovani gli altri, esatto, Andrea giovani gli altri, esatto, Andrea giovani, Andrea giovani gli altri, beh, comunque non è indispensabile fare l'Oca, però è una caratteristica che possiamo usarla. Quindi, care donne, cercate di essere intelligenti, l'intelligenza non è un qualcosa che abbiamo che non abbiamo. Anche l'intelligenza si può coltivare, anche l'intelligenza si può, diciamo, anche l'intelligenza si può, come possiamo dire, anche l'intelligenza si può, si può sviluppare fondamentalmente, anche l'intelligenza si può sviluppare. Io non sto dicendo che Marilyn fosse una donna realizzata. Probabilmente, ovviamente, una donna realizzata, se cerchiamo donne realizzate, se cerchiamo donne realizzate, probabilmente dovremmo cercare sicuramente, spiritualmente, una donna realizzata potrebbe essere, ad esempio, potrebbe essere, ad esempio, Madre Teresa di Calcutta, no? Madre Teresa di Calcutta sicuramente è una donna realizzata, anzi, le persone che hanno conosciuto Madre Teresa di Calcutta, che però era sicuramente un avatar, Madre Teresa di Calcutta, diciamo, era inarrivabile da un certo punto di vista, no? Le persone che hanno conosciuto Madre Teresa di Calcutta dicono tutte che erano, diciamo, dicono tutte che era una donna che ti dava soltanto la sua presenza, ti dava, ti dava una, come possiamo dire, ti dava una tranquillità, una serenità, però adesso non voglio prendere in esame, diciamo, non voglio prendere in esame Madre Teresa perché sicuramente Madre Teresa era un bodhisattva, era un essere, diciamo, molto evoluto che è venuto con una missione, diciamo che secondo me Madre Teresa potrebbe essere un Buddha sicuramente o comunque una persona realizzata, quindi non, però le persone che erano a contatto con Madre Teresa dicono che, diciamo, Madre Teresa aveva, dava proprio una sensazione di pace, Madre Teresa dava proprio una sensazione di benessere, solo essere a contatto con lei. Comunque, tornando al nostro concetto, quali sono le abitudini? La prima abitudine che devi prendere, cara Malga Shona, è di coltivare la tua intelligenza, la prima abitudine che devi prendere è di coltivare la tua intelligenza, questo è un punto, è un punto fondamentale, coltivare l'intelligenza, coltivare l'intelligenza, perché cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è un complesso, diciamo, di facoltà psichiche, sicuramente di facoltà mentali, che ci consentono di pensare, comprendere, spiegarci, elaborare modelli astrati di realtà, saperci adattare alla realtà, la capacità di adattarsi a situazioni nuove, perché questo è un punto fondamentale, la capacità di adattarsi a situazioni nuove, questo fa parte dell'intelligenza. Tra l'altro, proprio i modelli di intelligenza sono quelli spiegati dalla PNL, chi volesse diventare più intelligente può seguire i miei seminari di PNL che sono iniziati da poco, oggi abbiamo fatto la lezione introduttiva, quindi chi volesse, diciamo, diventare più intelligente, perché la PNL spiega proprio i modelli di eccellenza, quindi può fare l'abbonamento base e con l'abbonamento base può seguire i miei seminari e quindi sviluppare la sua caratteristica di intelligenza fondamentale. Quindi la donna ideale non è una Barbie, adesso non perché qua c'è Barbie, ho preso ad esempio il nome Barbie, la Barbie della bambola, no, la Barbie bionda che dice sempre di sì e che fondamentalmente è un'oca, non è quello il modello di donna seduttiva. Quindi prima cosa, prima abitudine coltiva l'intelligenza, quindi si curiosa, si curiosa. Esistono tanti tipi di intelligenza ovviamente, no, c'è l'intelligenza linguistica che è molto importante, l'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza spaziale, l'intelligenza musicale, l'intelligenza corporea, ad esempio i ballerini e gli atleti hanno, salutiamo Betty Cotic, i ballerini e gli atleti hanno un'intelligenza corporea, ma anche l'intelligenza interpersonale, no, la capacità di sviluppare empatia. Sì, Madre Teresa probabilmente, a meno che non torni come Bodhisattva. Il prossimo Buddha, dicono che sarà Buddha Maitreya, che adesso sta vivendo nella terra pura di Tushita, e la prossima incarnazione su questo pianeta di illuminati di Buddha, almeno, dicono che sarà il Buddha Maitreya, il Buddha dell'amore. Comunque, quindi la capacità logico-matematica, quindi noi abbiamo la capacità di entrare in contatto con questa intelligenza, no? Ovviamente c'è chi possiede soltanto una di queste abilità intellettive, c'è chi ne possiede più di una, c'è chi ne possiede due, ma l'importante è precisare che non sono facoltà innate, noi le possiamo potenziare attraverso l'esercizio. Beh, tenete presente che l'intelligenza è come un muscolo, no? È la volontà, è la volontà che, è la volontà che serve, è la volontà che serve a sviluppare, è la volontà che serve, brava, brava Cristina, è la volontà che serve a sviluppare le nostre capacità. La volontà è quella che ci permette di sviluppare l'intelligenza, l'intelligenza è come un muscolo, si indebolisce se non viene allenato. Quindi, ad esempio, le persone che dicono sempre le stesse cose, le persone che rimuginano, no? Che fanno sempre le stesse domande, e ma cosa fai? E ma come stai? E ma come sta il catramista? E ma come sta il nonnino? È un panzone? Ecco, le persone che dicono sempre le stesse cose, no? Che raccontano sempre le stesse cose, è un sinonimo di bassa intelligenza, è come un muscolo che si affloscia, no? È un muscolo che si affloscia e, diciamo, diventeranno, queste persone tenderanno a diventare sempre più stupide fondamentalmente. Io i video li faccio, micro, i bonami, li faccio, devi fare l'abbonamento base però, i video di PNL, faccio proprio un seminario di PNL a lunedì o giovedì, con l'abbonamento base puoi fare tutto fondamentalmente. Puoi seguirlo, insomma. Quindi bisogna stare attenta. Il cervello è come un muscolo che si indebolisce fondamentalmente, no? Quindi è importante, questa è la prima abitudine. Un'altra abitudine che, secondo me, devi fare per mantenere attiva la tua mente è quella di essere curiosa della vita, curiosa. Quindi è ovvio che se tu stai tutto il giorno a imbottirti di puttanate programmi shit programs che ti fanno vedere la televisione, telegiornali farlocchi, trasmissioni finte, tutte queste cose qua, l'intelligenza diminuisce. Quindi noi dobbiamo tenere sempre attivo questa cosa qua, no? Dobbiamo, anche la meditazione secondo me può aiutare perché la meditazione ti spinge a fare qualcosa. Io tra l'altro suggerisco anche quella che viene chiamato neurotraining. Poi il neurotraining non è niente di particolare, però ad esempio è fare delle cose cambiando abitudini. Ad esempio, se sei abituato a scrivere con la mano destra, inizia a scrivere con la mano sinistra. Se sei destrossa, inizia a diventare mancina. Ma anche per dire imparare a ballare un ballo, fondamentalmente può essere una forma di intelligenza. Anche non andare a fare il ballo del mattone, ma un ballo strutturato. Io ad esempio ho studiato il tango, ma anche fare ad esempio un'arte marziale che ti fa fare certi movimenti, fare meditazione. Anche a crescere la propria cultura è fondamentale. A crescere la propria cultura non è così difficile. Richiede impegno, ma ti dà anche soddisfazione fondamentalmente. Quindi questo è un punto molto importante, no? Quindi riuscire a sviluppare la tua cultura e sembra. Come devi fare? Leggi! Leggi, 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 ascolta dei video, fai i miei seminari. Sono tutte modalità per migliorare la tua cultura, che fa parte dell'intelligenza, fondamentalmente. Quindi, salutiamo anche Giovanna. Queste cose qua sono fondamentali. Cioè, se noi vogliamo sedurre e conquistare, dobbiamo sempre migliorarci. Dobbiamo sempre, costantemente migliorarci. È molto importante questo. E poi anche circondati di gente colta e intelligente. E ovvio che se tu ti circondi dei catramisti, i catramisti non sono persone deculturate. Sono persone, cioè non sono persone, i catramista è una persona ottusa. È questo il concetto di fondo, no? Invece circondarsi di gente colta, intelligente, è un mondo interessante questo. Quindi stare in mezzo alle persone, parlarci, discutere, confrontarsi, anche chi ha i nipoti, chi ha i ragazzi, ad esempio la nostra, la nostra Patrizia Perotti, che ha due nipoti, no? Ad esempio. Stare con i ragazzi giovani, parlare con i ragazzi giovani, ti tiene giovane. Se stai con i vecchi come te, se stai con quelle vecchie come te, cara, sempre con quelle vecchie, e non va bene. Devi anche stare in mezzo ai ragazzi giovani, perché questi ti danno nuovi spunti, nuove cose, no? Quindi questo è molto importante fondamentalmente. Quindi se avete i nipoti interagite, no? Vedete l'interazione con i vecchi sono saggi, ma i giovani hanno vitalità. Quindi tanto con i vecchi ci state comunque. Con i vecchi ci state comunque sicuramente, perché quello è... però alternare anche. Se stai solo con i giovani inizia a stare con i vecchi anche. Per i ragazzi giovani invece credo che sia una buona cosa stare con le persone anziane. I ragazzi giovani devono stare con i giovani, ma devono stare... quindi anche variare l'età. E comunque le donne, tornando alla seduzione, le donne più... le donne intelligenti sono quelle che sono in grado di sedurre col cervello. E sono di gran lunga le donne che ti entrano nella testa di un uomo. Devono entrare nella testa di un uomo. Questo è un punto fondamentale. È molto importante questo, no? Quindi imparare le cose è un punto fondamentale. Per far impazzire un uomo non basta che ti metti il perizoma, il reggi calze, il tacca spillo e diciamo... e che cazzo ne so. Perché quello serve per farti trombare. Certo, se vuoi farti una trombata va benissimo. Ma non dico che è sbagliato farlo. Però dico che non è quello che fa innamorare un uomo. Puoi metterti tutta la lingerie del mondo. Essere una bambolona ma non serve a una beata minchia. Non serve una beata minchia per far innamorare un uomo. Per far innamorare un uomo, diciamo, non basta il corpo, non basta il viso, non basta il trucco, ma serve la mente. E la mente è la tua forza interiore, è la tua capacità interiore che fa innamorare. È la tua capacità interiore che fa innamorare. Ma che poi si traduce anche nel linguaggio non verbale. Ad esempio la voce è un'arma di seduzione. Quindi noi dobbiamo imparare ad usare la nostra voce per sedurre. Quindi pensate qua. Ecco, molte persone non si rendono conto che hanno una voce sgradevole, che hanno una risata sgradevole. Non se ne rendono conto, non se ne rendono assolutamente conto. E quando parlano, quando ridono, sono delle ocche giudive. Quindi dobbiamo imparare un po' a gestire queste cose, no? A gestire la nostra voce, a gestire la nostra comunicazione, è importante diventarne consapevoli. Se non ne diventi consapevole, perché noi non ne siamo consapevoli della nostra voce. Anche il sorriso, anche l'ironia, sono tutte abitudini che devi coltivare. Quindi devi coltivare l'intelligenza, il linguaggio non verbale, tra cui la voce e lo sguardo sono fondamentali. L'ironia, il modo ovviamente anche di essere femminile, perché quando parlo di essere femminile, la femminilità, il look giusto, sono importanti. Ma non è che sono... è un mix di cose. Noi siamo tutti interdipendenti. Se tu inizi a... e poi un'altra cosa che devi assolutamente... che devi assolutamente, diciamo, che devi assolutamente capire, è la tua capacità di comunicare. Perché tieni presente questo, che noi non otteniamo nella vita quello che meritiamo, ma otteniamo quello che siamo in grado di comunicare. Noi nella nostra vita otteniamo quello che siamo in grado di comunicare, non quello che meritiamo. Tu puoi meritare qualunque cosa, puoi meritare qualunque cosa, però non riesci a ottenere nessun risultato. E questo è un punto fondamentale, questo è un punto molto molto importante. Bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione perché se tu non riesci a capire come vanno le cose, non riuscirai a ottenere, non riuscirai a ottenere nessun risultato, non riuscirai a ottenere assolutamente nessun risultato. Quindi io ti suggerisco, io ti suggerisco di imparare a comunicare. Una modalità per imparare a comunicare, una modalità per imparare a comunicare, che cos'è? è proprio la capacità di, come possiamo dire, è proprio la capacità di, come possiamo dire, è proprio la capacità per comunicare di imparare la PNL, imparare la programmazione neurolinguistica. Imparare la programmazione neurolinguistica è un fatto fondamentale. Se tu impari, salutiamo anche Paola, se tu impari la PNL, se tu impari la comunicazione subliminale, otterrai dei grandi risultati. Quindi queste sono un po' le abitudini che devi imparare, ma ce n'è un'altra che è fondamentale, che è la capacità di mantenere il distacco del risultato. La capacità di mantenere il distacco del risultato è una delle cose più importanti. La capacità di mantenere il distacco del risultato è probabilmente la capacità migliore. Attraverso questa cosa, se tu riesci a mantenere il distacco del risultato, riuscirai a ottenere dei grandi risultati. Come si ottiene la capacità di distacco del risultato? Il distacco del risultato lo ottieni fondamentalmente attraverso l'autostima, rendendoti conto che gli attaccamenti sono uno dei veleni mentali. Salutiamo anche Barbie. Noi abbiamo due veleni mentali fondamentalmente. Il primo veleno mentale è l'ignoranza. Voi siete ignoranti fondamentalmente. Siete ignoranti e essere ignoranti che cosa vi comporta? Essere ignoranti comporta che non riuscirete a ottenere nessun risultato. Salutiamo la nespola. La vostra ignoranza non vi porterà nessun vantaggio. Voi dovete imparare a non essere ignoranti. Questo è un punto fondamentale. E ignorare che cosa? Avere una corretta visione della realtà vuol dire renderci conto che la realtà è vuota di esistenza intrinseca. Rendersi conto che i veleni mentali ci rovinano la vita, gli attaccamenti ci rovinano la vita. Una volta che tu riesci a comprendere in modo profondo che non ha senso avere un attaccamento perché l'attaccamento non ti porta da nessuna parte. L'attaccamento ti porta, diciamo, l'attaccamento ti porta a perdere quello che desideri anziché ottenerlo. Quindi impara, diciamo, a utilizzare invece al meglio, come possiamo dire, le tue armi di seduzione fondamentalmente. Impara a mantenere il distacco del risultato e a viverti la seduzione come un gioco. Soltanto se ti vivrai la seduzione come un gioco, riuscirai a ottenere dei risultati. Io suggerisco anche di imparare a muoversi. Per una donna è importante puoi allenarti davanti allo specchio, camminare con i tacchi, anche la sensualità. Però esiste un'eleganza verbale ed esiste un'eleganza non verbale. Quindi fondamentalmente è ovvio che se tu, diciamo, inizi a parlare, è ovvio che in questo modo non otterrai nessun risultato. Devi sviluppare queste caratteristiche. Bene, comunque queste sono le abitudini fondamentali che ti servono. Se le imparerai a sviluppare vedrai che con facilità riuscirai a sedurre, riuscirai a far innamorare le persone che ti piacciono. Bene, detto questo, detto questo...